Davide, contro il Roma City, soprattutto il debutto che doveva essere casalingo, anche se poi si è giocato a Notarischi, è arrivato comunque il primo punto in classifica, direi più che meritato visto l'andamento della partita. Sì, speravamo in qualcosa in più, soprattutto per le occasioni avute e per la poca mole di gioco subita durante i 90 minuti. Sì, sono comunque felice di aver ritrovato, come con tutti gli altri, compattezza dopo gli errori e questo può solo far ben sperare per le prossime partite. Una vittoria che speriamo che possa arrivare già domenica. Possiamo dire che domenica ha una grossa mano davvero, l'ha data il pubblico, perché anche al rientro di Spagliato e Viato ha un grosso incitamento. Sì, sono stati fantastici, noi li abbiamo percepiti e ce lo siamo detti tante volte dentro lo Spagliatoio, si sentiva la loro presenza e pur non avendo giocato magari al Bonolis abbiamo percepito di aver giocato in casa. Il prossimo step è Castelfidardo, squadra ne promossa come la vostra, si trova ancora a zero punti, giocheranno in casa, però in una gara possiamo dirlo ampiamente alla vostra portata. Sì, ogni domenica sarà una partita difficile, quest'anno non ci sono partite scontate, magari come lo è stato l'anno scorso dove si pretendeva una vittoria ogni domenica. Quest'anno sarà difficile in ogni campo, in casa, fuori, sempre, quindi noi possiamo solo dare il massimo, sappiamo che il Castelfidardo ha raccolto poco, ma come noi vorranno vincere, ma noi speriamo di averne di più di loro. Grazie a tutti.